Noi accogliamo tutte le domande di lavoro, ma diamo la priorità alle persone svantaggiate. Perciò se una persona comune presenta una domanda di lavoro e un curriculum, noi registriamo i suoi dati nel nostro database e quando sarà il momento di fare le assunzioni possiamo consultare, ma se è una persona svantaggiata che contatta la cooperativa, la chiamiamo a colloquio. Colloquio abbastanza lungo, raccogliamo i suoi dati, prendiamo i suoi documenti, ascoltiamo la sua storia e cerchiamo di capire durante quel colloquio, anche consultando un po' la sua storia lavorativa, se potrebbe essere un operatore della cooperativa. Il colloquio è proprio un incontro diretto con la persona e quello che porta, con la sua storia, anche con le sue difficoltà, perché nella storia delle persone che arrivano ci sono anche momenti critici, fallimenti, battute d'arresto, qualche volta anche importanti. Una sfortuna particolare deriva dal non avere un lavoro fisso, significa non avere un reddito, non avere una dignità, non avere una possibilità di pagare un affitto, non avere la possibilità di progettare una famiglia o magari di ricostruirla. Quindi le persone svantaggiate, senza lavoro, che si rivolgono a una cooperativa sociale, chiedono veramente che qualcuno dia loro una mano per aiutarle a rimettere in piedi la loro vita e riprendere magari il loro cammino. Io mi metto nei panni di una persona che dopo un primo contratto, un secondo contratto, si sente finalmente apprezzata e ha la sua stabilità lavorativa, può per esempio disporre di uno stipendio fisso, può progettare e io capisco che per loro è una grande vittoria, anche se lo stipendio delle cooperative sociali tocca neanche 1000 Euro al mese, se li sudano e la stabilità lavorativa è un grande traguardo per una persona che ricomincia dopo una vita con delle grosse difficoltà. È però un successo anche per noi, perché quando riusciamo a trasformare un contratto a tempo indeterminato, noi raggiungiamo il nostro obiettivo, quella persona è felice, ma siamo felici anche noi, perché questo è il motivo per cui esistiamo. Nel momento che una persona è con noi da anni, quindi lavora da tempo, abbiamo sempre cercato di utilizzare i servizi diversi che abbiamo, proprio per riuscire anche a far sì che le persone cambiassero il tipo di lavoro pur di mantenersi produttive e anche questo è una fatica in mare, quindi c'è per noi la dignità della persona a tutto tondo. Il mio obiettivo, che abbiamo scritto anche sul nostro primo bilancio dell'anno scorso sociale, è quello di accompagnare tutti i nostri soci lavoratori alla pensione, ma vi garantisco che è una sfida. La cooperativa oggi è un'impresa, che poi fa anche cooperazione e fa anche sociale, ma prima di tutto è impresa, quindi abbiamo gli stessi obblighi, gli stessi doveti di un'altra azienda, più noi ci mettiamo il valore aggiunto, perché noi siamo anche socialmente utili, perché inseriamo persone svantaggiate al lavoro e in più facciamo anche cooperazione, quindi cooperiamo tra di noi. Gestiamo per il territorio comunale di Rimini una raccolta differenziata per conto di IRA, della carta, della plastica e del vetro principalmente. Poi gestiamo l'affissione dei manifesti, gestiamo in vari comuni, da quest'anno anche a Sant'Arcangelo e a San Clemente, poi storicamente da Rimini e poi gestiamo le affissioni funebri di Amir. Gestiamo un servizio di pulizie, facciamo pulizie più che altro civili, gestiamo i cimiteri, quindi pulizia, scia, pulizia, scia eventi e poi gestiamo dei piccoli lavoretti di trasloco, dei piccoli lavori di supporto alle manifestazioni, partite e gestiamo la manutenzione strada e segnaletica nel comune di Rimini. A oggi i lavoratori tra tempo determinato e tempo indeterminato soci e non soci si aggirano sui 75 dipendenti più o meno, con un picco quasi ai 95 dipendenti nel periodo estivo per superire al discorso della stagionalità che Rimini è soggetto. Sul sociale quando abbiamo spinto molto su un'impresa in realtà abbiamo rallentato perché comunque nella selezione del personale avevamo qualche difficoltà. Da circa tre anni con una riorganizzazione molto forte interna, con la scelta di una persona qualificata che è il nostro RIL, responsabile di inserimento lavorativo, che è il dottor Pastore, che comunque si dedica solo a questo, quindi alla selezione, a seguire tutte le persone svantaggiate, nella crescita continua abbiamo fatto crescere anche il numero di persone svantaggiate, che oggi cosa quasi direi unica, rappresentano il 50% del totale degli occupati, quindi vuol dire che in questo momento siamo circa, mi sembra, impiegati in cooperativa 80, di questi 80, 40 appartengono le categorie svantaggiate. Il lavoro è importante a qualsiasi livello perché come io sono tra virgolette bravo a organizzare il servizio per far sì che il lavoro vada avanti deve essere bravo quello che svuota il cassonetto, quello che paga lo stipendio e quello che va a ricercare commercialmente il lavoro all'esterno, quindi penso che sia, siamo un'equip, più che mai la cooperazione è un'equip perché lavoriamo di squadra, io ho un pezzettino di tutto il lavoro della cooperativa, quindi non penso che senza Battistini Hermes la cooperativa non vada avanti, né senza, immagino, né senza altri operatori, cioè tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, quindi penso che la cooperativa di forte abbia questo. La qualità chiaramente è una cosa molto importante perché permette alla cooperativa, la formica, che appunto come avete detto è una cooperativa sociale, di rimanere sul mercato, cioè di essere competitiva come le imprese profit, quindi noi facciamo parte del non profit, però questo non vuol dire che non facciamo un lavoro di qualità, lo dimostra la nostra certificazione che è stesa a tutti i servizi che noi facciamo. Noi vogliamo andare oltre a questo concetto di qualità e seguendo anche quello che è il trend delle imprese profit e raggiungendo anche la certificazione, cioè cercando appunto di ottenere anche la certificazione ambientale e la certificazione sulla sicurezza. Questi sono i nostri obiettivi per il futuro e speriamo di farcela, sono molto ambiti perché sarà molto difficile raggiungere questi obiettivi perché comunque costa fatica, è una questione di organizzazione proprio, di riorganizzazione anche dei servizi e anche di investimento, quindi ci sono dietro anche investimenti molto grandi, sia in termini di denaro, però anche proprio di sforzi e di persone che verranno assunte o comunque assoldate per questo. Noi abbiamo il desiderio di fare un lavoro di qualità, quindi quello che ci chiedono di farlo e anzi anche di più, cercare di proprio raggiungere la soddisfazione dei nostri clienti e anche il piacere poi di lavorare con noi perché quando c'è una collaborazione si raggiungono i massimi obiettivi, quindi siamo contenti sia noi che il cliente, però è anche una cosa che poi proprio richiedono, cioè ormai qualsiasi tipo di ente, sia esso pubblico sia esso privato, cioè non si può più prescindere da un certo tipo di organizzazione che proprio si basa su un controllo del servizio che la qualità ti assicura. Il sistema di qualità si regge su una certa parte documentale che è essenziale per dimostrare determinate attività che vengono effettivamente fatte. La qualità da noi non è solo carta, questo è sicuro insomma. Io ho iniziato con i primi sei mesi di contratto facendo la manutenzione delle strade, cioè andando a chiudere delle buche con l'asfalto, cercando di svolgere meglio il mio lavoro e poi sono passato alla manutenzione della segnaletica. Visto che avevo voglia di crescere e di fare, sono andato in direzione e ho chiesto di parlare con Borghini e con il direttore che è Battistini, chiedendogli se c'era la possibilità di crescere professionalmente, di avere delle responsabilità. dopo un periodo di osservazione probabilmente da parte loro mi hanno dato questa possibilità che spero di aver colto al meglio e sono qua. Comunque iniziare con un contratto a tempo determinato di sei mesi per arrivare ad essere responsabile comunque dei servizi, avere la fiducia del direttore del Presidente, mi sembra un buon risultato che non è penso escluso a nessuno perché comunque lo spazio c'è, la cooperativa è in crescita e questa cosa potrebbe essere riservata anche ad altri soci e lavoratori. Oggi mi occupo dei servizi che in particolar modo della raccolta differenziata e poi anche della segnaletica e della manutenzione strade.